L'Udc Aquilano si riorganizza in vista delle prossime amministrative del maggio 2017. Il partito del segretario nazionale Lorenzo Cesa, che in Consiglio Comunale ha come rappresentanza il consigliere Raffaele Daniele, ha l'obiettivo di creare un gruppo forte e coeso fatto da professionisti aquilani. Il segretario comunale è l'avvocato Luciano Bontempo. Per quanto concerne la riorganizzazione del nostro partito, diciamo che la mia espressione è stata una volontà di Lorenzo Cesa, con il quale ho avuto un colloquio e ho accettato perché ritengo che ormai non si debba più stare a guardare. Ognuno di noi deve contribuire seriamente allo sviluppo di questa città. Abbiamo riorganizzato, stiamo riorganizzando un Udc nuovo. Non è vero dunque, non corrisponde quanto qualcuno sostiene, che l'Udc sta scomparendo e che assolutamente non è vero. Noi ci siamo riorganizzati, abbiamo costruito una squadra nuova fatta di soli professionisti e di persone che intendono portare avanti determinati progetti. ben più importanti e quindi andiamo a recidere il rapporto con la vecchia politica. Questo è il senso. Probabilmente l'Udc non esprimerà un candidato sindaco per le prossime amministrative, ma creerà una lista di appoggio a uno dei candidati. Resta da vedere a quale e a quale schieramento, centro-destra o centro-sinistra.